esperienza informativa che significa in qualche modo creare dei progetti che siano in grado di diminuire la distanza tra esperienza e informazione informazione è qualcosa di assolutamente indiretto noi leggiamo informazioni ascoltiamo guardiamo viene scritta prodotta da qualcun altro l'esperienza invece è esattamente l'opposto è qualcosa che noi viviamo in prima persona nelle quali quasi sempre abbiamo un ricordo che sia positivo negativo quindi è diretta allora tra informazione ed esperienza la sfida è come diminuire questo spazio verso la creazione di esperienze che siano in grado di informarci con l'europia andetta journalist network abbiamo iniziato un progetto qualche mese fa che vuole raccontare come la temperatura degli ultimi 40 anni sia cambiata spesso in peggio in tutti i comuni europei ogni comune è rappresentato da un puntino che cambia colore in base all'aumento della temperatura negli ultimi 40 anni quindi a livello macro permette di avere una mappatura su tutta europa di come l'europa ha subito un climate change un cambiamento climatico drammatico negli ultimi 40 anni e questo permette di arrivare anche fino al singolo comune quindi permette tramite una ricerca di accedere in maniera capillare anche al comune più piccolo d'italia o d'europa e da lì vedere attraverso quello che si chiama poi un processo di scrolly telling quindi uno storytelling una narrazione che avviene tramite lo scorrimento della pagina un'altra strategia che abbiamo implementato è che chiunque può poi condividere il proprio comune sui social network che quando lo fa viene automaticamente generata un'immagine con il nome del comune che uno sta condividendo con l'aumento della temperatura quindi non è la classica immagine che viene generata per i social network quella che non so ad esempio con la mappa o con il logo ma un'immagine puntuale del comune che si sta guardando in questo modo l'idea è di massimizzare l'impatto la diffusione e l'adozione di questo che poi in realtà è uno strumento Don't Miss The Train è stato il primo progetto con il quale abbiamo iniziato la collaborazione con DJNet è stato un progetto molto interessante perché partiva da un dataset che dimostrava come in Europa ci fosse un problema di connessione ferroviaria nonostante si dica tuttora alle spalle di Europa Unita ma in realtà poi è veramente difficile soprattutto se si abita in zone rurali riuscire a viaggiare attraverso i differenti paesi e raggiungere altre altre città Un problema che è emerso che poi abbiamo usato come sfida per migliorarci nel progetto sul climate change è stato poi la traduzione in undici lingue. Il progetto è tradotto in undici lingue il problema è che i contenuti sono sempre legati a un singolo paese sarebbe ottimo quello che abbiamo poi riflettuto e se quando guardo il progetto in italiano gli esempi di mobilità a livello ferroviario che vengono fatti fossero riferiti all'Italia quindi che gli esempi fossero riferiti alla realtà quotidiana del lettore. Credo che il designer abbia un ruolo importante nel processo informativo rispetto a quello che sono le esperienze anche del passato dove prima si parlava di Neurat in cui il designer era forse più un traduttore e diciamo il passo finale di un processo dove magari c'era l'esperto che raccoglieva dei dati, un giornalista che li metteva in una forma narrata e poi il designer che faceva un bel pacchetto grafico. Credo che adesso il designer non sia più questa figura o alcuni lo metaforizzano e lo paragonano a un direttore d'orchestra. Credo che adesso il designer sia uno dei tanti musicisti all'interno di un processo non saprei dirti adesso chi è il vero direttore d'orchestra però credo che ormai i processi o almeno quello che noi cerchiamo di perseguire è un processo appunto sia collaborativo e assolutamente interdisciplinare dove allo stesso tavolo siede uno sviluppatore piuttosto che un giornalista un antropologo un sociologo tutte figure diverse che poi contribuiscono a produrre un unico progetto. Io credo profondamente che il design soprattutto il design dell'informazione possa migliorare a contribuire il dibattito pubblico e anche il punto di vista che il cittadino ha delle istituzioni e ad esempio dell'Unione Europea. La grande sfida però davanti alla quale si trova il mondo del design è quello di uscire dall'autoreferenzialità. Quello che spesso accade è che ci troviamo davanti a progetti molto belli assolutamente scenografici che si ha l'impressione comunichino solo al mondo dei designer cioè fatti per la comunità dei designer ignorando o diciamo tenendo sottovalutando ecco quello che poi è la riflessione iniziale che è a chi si rivolge perché se dobbiamo poi in realtà andare a colpire in maniera metaforica ovviamente i cittadini dobbiamo tener conto del loro livello di alfabetizzazione grafica, alfabetizzazione statistica. La cosa è diventata evidente durante la pandemia e come la comunicazione dei dati da parte dei quotidiani era spesso caratterizzata da toni sensazionalistici. Da parte dei designer sono state create molte molte alcune infografiche che erano ancora più difficili da decodificare quindi è un po' un paradosso perché si dice che la visualizzazione dei dati, l'infografica dovrebbe rendere accessibile in maniera più veloce quello che altrimenti dovrebbe essere decodificato attraverso i dati ma poi nei fatti molto spesso queste infografiche richiedono un alto tempo di decodifica e quindi la sfida davanti alla quale si trova il design è proprio riuscire a uscire un po' dalla sua autoreferenzialità e veramente abbracciare i bisogni dei cittadini quindi un design che sia al servizio dei cittadini più che dei designer stessi.